Dentro di noi abbiamo un'energia vitale, così come avviene all'interno di un albero che attraverso la fotosintesi clorofiliana trasmette quelle che sono le informazioni nutritive dal terreno, nelle radici, sino al tronco, per poi espandersi nei rami e nelle foglie e nei frutti, così possiamo farlo anche noi. In questa epoca di trasformazione, proprio di risveglio dell'anima, in cui ognuno di noi è chiamato a sciogliere quelli che sono i legami karmici, ho creato proprio un percorso per risvegliare la tua energia vitale nel corpo e così per invertire la risposta che esiste in maniera automatica nel corpo e dovuta a condizionamenti societari, familiari, karmici, per sciogliere quelli che sono proprio i blocchi che ancora limitano la tua realizzazione che meriti e l'abbondanza che meriti. Se vuoi fare tuo questo percorso, ho creato proprio un percorso online dove ti guiderò passo passo, attraverso moduli e pratiche, a radicare questi concetti nel corpo per poi trasmutarli lì dove avviene proprio il tutto a livello energetico per poi trasformarli in materia. Se puoi fare i tuoi queste nuove informazioni, sciogliere tutto ciò che limita la tua energia vitale, così come tutto ciò che meriti, può essere il tuo equilibrio psicofisico, può essere un sogno che tanto hai desiderato o un qualcosa che ancora ti ostacola a ciò che vuoi davvero, benvenuto davvero in questo percorso di risveglia della tua energia vitale nel corpo. A presto Elisa!